Ciao a tutti ragazzi, stasera vi faccio vedere un metodo carino per pulire decanter di questo calibro, l'Ovalis, che rispetto al decanter normale è molto più difficile. Mentre in quelli normali possiamo entrare con uno stupinaccio, con una spugna, in questo è molto difficile. Anche perché mettendo l'acqua calda si rovina o mettendo anche nello sgrassato qualcosa poi rimane all'interno, non si può pulire e rimane a parte. Quindi utilizzerò questo sistema che sono molto semplice, sono delle sfere di acciaio che riscate con l'acqua tiepida. e con l'acqua tiepida arrivano nei punti più impedimenti. Quindi in questo caso girando fanno attoccare le parti più difficili, non li possiamo arrivare. Vedete già il colore? E' uscita già la parte del rosso del vino, che abbiamo utilizzato a tanto, c'era un vino rosso, un amarone. Abbiamo messo un amarone oggi qui del 2003 e di conseguenza esce ora piano piano il colore. Lo utilizziamo anche, per esempio, un po', facciamo anche la parte del manico e poi giro l'unica. Lo giriamo in questo modo, andiamo. Adesso andiamo a riposiziarlo qua, l'acqua, come dice un filtro, l'acqua poi... le palline callo di nuovo al suo posto, senza perderle. Semplice. Andiamo a sciacquare con un po' di acqua tenda e andiamo a disinfettare con l'acqua tiepida. Poi lo appendiamo e lo facciamo gocciolare. Perfetto, un saluto a tutti. Ciao ciao! Ciao!